Un pomeriggio di fuoco e fumo denso nero trasportato dal vento caldo che si è dipanato per chilometri, lasciando a terra una sottile polvere nera. Nella zona industriale di Battipaglia questa domenica è stata davvero infernale a causa dell'incendio che si è sviluppato all'interno dell'azienda Sele Ambiente che opera nel trattamento dei rifiuti solidi urbani. Inoltre è stata emessa dal sindaco Cecilia Francese un'ordinanza in cui si invitavano i cittadini residenti nelle zone circostanti all'incendio per un raggio di un chilometro a mantenere chiusa la porta delle abitazioni e le attività commerciali, industriali e dei servizi, ma anche il divieto di manifestazioni ludico-sportive all'aperto in tutti gli edifici di comune uso personale e familiare di lavoro ricadendo in un raggio di 100 metri l'allontanamento dei residenti, fino al termine delle operazioni di spegnimento fatta salva ogni modifica del termine in base ai risultati analitici sulla qualità dell'aria. Per quanto riguarda la coltivazione e raccolta di ortaggi per uso domestico, il consumo e la trasformazione dovranno avvenire solo dopo accurato lavaggio con acqua potabile. I provvedimenti sono stati assunti solo in via precauzionale in attesa dei risultati dei monitoraggi effettuati dall'ARPAC. Vedendo la colonna di fumo dal pessimo colore si prefigura un disastro ambientale di proporzioni preoccupanti, ha dichiarato il Presidente del Legambiente Battipaglia Alfredo Napoli. Chiediamo all'ARPAC di partire immediatamente con i monitoraggi a tutto campo sui microinquinanti di quelli presenti in atmosfera ricaduti sulle coltivazioni e sulle acque e di rendere pubblici i risultati delle analisi non appena saranno disponibili per informare i cittadini giustamente preoccupati. Nel frattempo, conclude Legambiente, siamo pronti a presentare alle autorità competenti un esposto contro i gnoti in base alla legge sugli ecoreati.